allora l'amico giulio mi chiedeva di spendere qualche riflessione sul concetto della non dualità e nello specifico mi diceva di come si crea resistenza a volte nel sentir dire certe persone che la meditazione non serve a niente che tutto è già accaduto che tutto è già qui che non è necessario andare da nessuna parte che per accedere a questo stato di risveglio di non dualità insomma il fare non serve in un certo senso e sì posso capire come questo crea resistenza nel ricercatore no perché il ricercatore ricerca fa in qualche modo si muove io stesso tante volte mi sono trovato a vivere questa questa sorta di paradosso questa sorta di resistenza quello che mi è venuto in mente quando giulio mi ha invitato a fare questa riflessione è una storiella che mi raccontò un mio insegnante tanti anni fa e questa storia dice il risveglio è simile a una persona che entra in un labirinto completamente al buio e si affida ad un maestro o una maestra per muoversi nel labirinto e quindi questo maestro questa maestra gli dice fai due passi avanti girati a destra vai dritto torna indietro di due passi sinistra dritto e lo guida in questo labirinto e finché questa persona durante questo viaggio nell'oscurità totale raggiunge l'altra estremità l'uscita del labirinto dove c'è un interruttore della luce accende la luce si volta e si rende conto che non c'era nessun labirinto si è mosso per tutto il tempo in una stanza completamente vuota e questa storia mi ha sempre suggestionato molto perché è proprio così nel senso che ogni volta che si vive un risveglio nella nostra vita io penso che il risveglio non sia un punto d'arrivo totale ma un continuo procedere un continuo risvegliarsi sempre di più ogni volta che si vive un risveglio ci si rende conto che era già tutto lì sì è vero che non c'era niente da fare però allo stesso tempo se non ci fosse stato quel andare a destra sinistra quella affidarsi a un maestro non avremmo trovato in noi la volontà di attraversare la stanza perché eravamo addormentati quindi eravamo convinti che ci fosse un labirinto e quindi questi due aspetti l'idea che tutto è già qui tutto è già accaduto e allo stesso tempo c'è un fare che ci è richiesto per quanto non sia necessario sono entrambi veri in un certo senso perché di nuovo per riprendere un altro insegnante non mi piace molto quello che dice bashar rispetto agli strumenti alle tecniche e anche ai maestri lui dice tutte queste cose tutti questi esercizi queste tecniche sono solo giustificazioni lui le chiama giustificazioni che voi usate per giustificare il vostro potere per poter dire sì ho potere e mi permetto di esprimerlo attraverso questa tecnica attraverso questa meditazione attraverso questo esercizio questa cosa che ho imparato ma sono giustificazioni perché non è che vi danno potere non è che il potere passa di lì il potere è sempre dentro di noi ma noi non ci diamo il permesso di credere di averlo e quindi ci appoggiamo per così dire a queste stampelle finché un bel giorno ci rendiamo conto che possiamo lasciare andare la stampella e che non c'era bisogno della stampella però allo stesso tempo se non avessimo avuto la stampella non ci saremmo resi conto che non serviva quindi le due cose vanno insieme è vero che non serve in un certo senso ti rendi conto che in quel momento in cui ti sei svegliato non serve più quella cosa però ti è servita fino a quel momento quindi non è corretto secondo me dire come un assunto totale tutto è già qui non devi fare niente la meditazione non serve anche perché se dici a qualcuno qualcosa di questo genere questo qualcuno è ancora nel processo di navigare questo suo labirinto lo confondi un po' no e quindi è meglio è sempre meglio raggiungere questa consapevolezza da soli di nuovo almeno per me non è un processo lineare quindi io nella mia vita mi sono sentito svegliarmi mi sono sentito raggiungere un punto in cui sì era veramente tutto qui e non avevo più il senso del bisogno di fare niente e poi mi sono sentito riaddormentarmi e di nuovo mi sono scoperto a cercare delle tecniche delle modalità dei maestri per poi di nuovo svegliarmi quindi a volte parlato di quest'idea dell'illuminazione intermittente no perché io l'ho sempre vissuta così una sorta di lampadina che si accende si spegne e questo accendersi e spegnersi diventa poi magari ha una frequenza sempre più veloce finché alla fine la lampadina comincia a restare accesa in maniera più costante ma io personalmente continuo ad addormentarmi nella mia vita solo che se guardo la mia vita di che vi posso dire dieci anni fa 15 anni fa mi rendo conto che pur nel mio addormentarmi di adesso mi sono di molto svegliato rispetto a quella vita e tante scelte che allora mi sembravano così importanti adesso mi sembrano veramente futili perché dal punto in cui guardo la mia vita ora mi mi rendo conto che non mi servono adesso allora mi servivano a raggiungere questo punto e quindi è un po così sì c'è un'altra cosa un'altra riflessione che mi veniva che mi è venuta pensando a questo argomento è proprio l'idea che in questo concetto della non dualità l'ego si può rifugiare l'ego potrebbe fuggire quindi attenzione a non chiudersi in una torre d'avorio dicendo a io ho raggiunto il risveglio non ho più bisogno di niente non ho più desideri attenzione che non sia proprio l'ego a parlare quando qualcuno mi dice è capitato a volte di incontrare persone che mi dicevano ah io non ho più l'ego cercavo di guardare nei loro occhi se era proprio così ma di solito non trovavo la verità di quell'affermazione trovavo ancora un ego che cercava di convincersi di essere libero da se stesso ed è molto curioso però è anche comprensibile perché l'ego e la mente cercano sempre di usare quelli che sono in qualche modo gli strumenti del nostro risveglio i passi del nostro risveglio per creare delle degli ostacoli molto contorti ci raccontiamo una storia ci prendiamo in giro da soli no quindi sì attenzione secondo me a volte a rifugiarsi in questo in quest'idea del non duale del tutto è già qui non devo far più niente non devo desiderare più niente che non sia un fuggire dalla resistenza e dalla sofferenza di quel fare perché il fare in questo mondo contrastato lo sappiamo è un fare in qualche modo impegnativo è un fare che ci richiede di metterci in discussione è un fare dove affrontiamo l'errore il fallimento quindi può essere un fare doloroso allora non è che per cercare una sorta di analgesia una sorta di non sentire questo dolore ci rifugiamo in una non dualità ognuno chiaramente lo deve vedere per sé perché questo stato di risveglio di non dualità a volte è totalmente sincero quindi bisogna essere molto onesti con se stessi ecco una cosa che è noto però magari rispetto alle persone che anche potete incontrare o ai vari facilitatori su youtube è che quando uno si definisce risvegliato o si definisce appunto di non avere più un ego guardatelo bene negli occhi cercate di capire se viene da uno spazio puro quella cosa perché quando qualcuno si definisce il risvegliato di solito io trovo che ci sia un po una storia che uno si sta raccontando perché credo credo perché poi non è che mi senta così risvegliato ripeto è un andare e venire però credo che quando raggiungi veramente onestamente dentro di te quello stato di maestria e di risveglio non hai bisogno di definirti ti osservi con curiosità e ti osservi con ironia e non hai bisogno di dichiararti al mondo semmai è il mondo che ti riflette quella cosa che ti dichiara no però non hai bisogno di piantare la tua bandiera da nessuna parte in nessuno stato questo è il mio pensiero poi è il pensiero comunque di qualcuno che continua ad addormentarsi nella vita per cui chissà se è vero però è così il fare ci serve e quindi ecco un'altra cosa che mi viene da dire perché il fare ci serve perché in fondo questo sperimentare questo muoversi in questo labirinto immaginario questo fare esperienze è per questo che siamo qui non è per non siamo qui per stare seduti su una roccia in contemplazione totale magari per qualcuno può essere così ma è raro la maggior parte di noi è qui per imparare a navigare quest'illusione e a trovare la gioia in quest'illusione a svegliarci in quest'illusione quindi dobbiamo fare esperienze le esperienze sono naturalmente la meditazione gli esercizi le persone le relazioni il denaro il cibo il sesso tutto quello che è esperienza della materia e sul cammino spirituale si fanno tantissimi di quelli che noi definiamo poi errori gli errori fallimenti che però di fondo sono esperienze esperienze che ci insegnano cosa non risuona con noi cosa non è noi cosa non ci appartiene e quindi sì questo fare ci serve è un nostro servitore in un certo senso poi via via che ci svegliamo lo lasciamo andare non abbiamo più bisogno di fare così tanto non abbiamo più bisogno di lasciarci definire dal nostro fare dalla nostra professione dalla nostra filosofia di vita non abbiamo più bisogno di definizioni in generale però da qui a lì ripeto è un viaggio nell'esperienza poi ultima ultimissima riflessione che mi è venuta è che io credo che noi siamo in questa dimensione non tanto per arrivare a una comprensione della dualità cioè la capacità di tenere dentro di sé gli opposti in un'unità una comprensione totale dell'unità non è tanto quello secondo me l'obiettivo del nostro essere qui in questa densità in questa dimensione quanto è l'apertura del cuore quindi imparare ad amare che è una comprensione che è naturalmente un mettere insieme la dualità in un'unità però è una comprensione diversa da quella che avviene nel terzo occhio è una comprensione proprio dedicata all'amare al mettersi al servizio allo svegliarsi a questo livello del cuore e quindi in questo senso credo che la priorità per la maggior parte di noi dovrebbe proprio essere questa imparare ad amare non tanto preoccuparsi se a sono sveglio non sono sveglio questa meditazione serve non serve preoccuparsi così tanto del cammino del proprio risveglio quanto preoccuparsi per preoccuparsi forse non è il termine adatto però insomma per capirci focalizzarsi sull'idea di quanto ho amato oggi mi sono amato e quest'amore l'ho espresso quanto sono stato capace di amare come posso amare ancora meglio e scoprire allora lo stato di dualità di non dualità in questo in questo amore che poi non dualità è una parola così strana no questo non dualità non so da dove l'hanno tirata fuori comunque io preferisco parlare di unità mi sembra più semplice c'è un mondo duale che però è un'espressione è un'ombra è un'illusione che viene proiettata da un'unità e queste cose coesistono in questo apparente paradosso ma quando impariamo ad amare di più a sia ad aprirci a questo spazio del cuore che è uno spazio non intellettuale non mentale molto semplice molto semplice ecco che creiamo l'unità credo che invece la comprensione dell'unità a un livello più totale dell'essere quindi più diciamo un livello del terzo occhio non sia la priorità per la maggior parte di noi e poi per qualcuno magari lo è però per la maggior parte di noi credo che non sia la priorità di questa vita di questa dimensione così contrastata e duale è proprio l'amore è proprio il quarto chakra è proprio l'apertura di questo canale di risveglio che però è semplice ecco ci si può in altre parole proprio per per chiudere no questa riflessione con poche parole trovo che ci si risvegli molto più fluidamente in questa dimensione con la semplicità dell'amore dell'empatia della compassione piuttosto che non cercando di scalare gli insegnamenti spirituali più complessi e più articolati ecco proprio per far capire che è qualcosa di semplice a cui noi ci approcciamo quando stiamo con una persona che amiamo e le teniamo la mano con un animale a cui siamo legati o anche con una pianta per qualcuno o una roccia ma comunque stiamo con noi stessi e stiamo e ci lasciamo fondere in quell'amore ecco quello è quella la meditazione suprema quello è il risveglio quello è quello per cui siamo venuti qui imparare a permanere in quello stato imparare a permanere in quello stato di totale apertura ecco alla prossima ecco alla prossima